Loredana Lecciso, signori, come sappiamo tutti quanti, è la compagna storica di Albano Carrisi, il famoso cantautore pugliese, e in effetti la loro relazione sentimentale dura veramente da un sacco di tempo. Non è facile, soprattutto al giorno d'oggi, che una coppia arrivi a festeggiare più di vent'anni insieme, ecco, l'abbiamo visto proprio da Ilari Blasi e Francesco Totti, e per loro è successo il patatrack, mentre Albano ancora in qualche modo si salva. Loro due, infatti, nonostante ogni tanto spuntino delle male lingue, evidentemente possiedono un legame solido, capace di affrontare con successo qualsiasi tipo di situazione. Insomma, davvero un traguardo eccezionale quello che ha raggiunto questa coppia nota a tutto il pubblico. E, in effetti, dopo la fine del matrimonio con Romina Power, Albano ha saputo ricominciare e trovare l'intesa con la giusta compagnia. Albano e Loredana, inoltre, hanno avuto anche due figli, di nome Jasmine e Albano Junior. La prima, a quanto pare, ha deciso al momento di seguire, l'abbiamo vista un sacco di volte, ne abbiamo parlato tantissimo, e ha deciso di seguire le orme artistiche paterne, e, lo ricordo, ha già alle spalle qualche singolo musicale. Comunque sia, anche Loredana ha aperto un profilo Instagram che aggiorna piuttosto spesso, e tra l'altro si può certo affermare che si è davvero seguito, dato che per ora è arrivata a quota 207.000 follower. In questa piattaforma online, quindi, l'Aleciso si diletta a condividere con gli utenti alcuni attimi della sua vita quotidiana, insomma, fa vedere quello che fa, e più delle volte sfoggiando un bel sorriso, come giusto che sia. Soltanto poche ore fa, quindi, Loredana ha pubblicato un'altra foto, stavolta insieme all'amica Victoria. E così, sembrerebbe proprio che l'Aleciso stia passando un periodo estivo molto bello, soprattutto anche per quello che ha scritto nella didascalia. Che dire, ancora una volta questo post non è passato inosservato, infatti a tal proposito i seguaci, quindi quei famosi 207.000, hanno celermente commentato al di sotto della fotografia in questione. E la maggior parte delle risposte, tra l'altro, ha concentrato l'attenzione sulla bellezza delle due, che in effetti si presentano davvero belle e super bionde. Insomma, uno splendido duo, solo che, ma al vano, ma dov'è? Questo rimarrà un mistero, ma per ora è tutto per questa notizia, vi ringrazio per l'ascolto ed è stato un piacere come sempre.